Ciao a tutti e bentornati sui risparmi. Io sono Pasquale, il vostro amichevole risparmiatore ed investitore della Porta Accanto, nonché educatore finanziario IEF e autore del libro da meno 35.000 a 0 in 18 mesi, libro del quale trovate il link nel caso volesse acquistarlo qui sotto in descrizione del video nell'apposita sezione. Dopo un paio di settimane senza buonanotte mercati proviamo a ritornare facendo un piccolo sunto delle notizie più importanti che si sono susseguite nelle passate settimane e vediamo come queste possono avere impattato i nostri investimenti e la nostra vita sociale. Gli europei dalla scorsa settimana sono alle prese con qualcosa di impensabile fino a poco come si fa. L'euro scivola verso la parità con il dollaro americano. Questo significa che un euro equivale praticamente a un dollaro. L'ultima volta che questo è successo, che l'euro è sceso sotto il dollaro è stato nel novembre del 2002 quando la moneta unica era ancora ai suoi albori. L'euro si è gradualmente rafforzato e da allora è rimasto sempre al di sopra del dollaro. Consumatori, aziende e governi si sono abituati a questo status quo finanziario che è durato anche nei periodi peggiori della crisi del debito europeo. Ma quando la Russia ha lanciato l'invasione dell'Ucraina un improvviso shock economico ha capovolto le norme. L'euro ha iniziato a perdere valore il 24 febbraio, una tendenza che si è accelerata a giugno con l'aumentare dei timori che il Cremlino si sarebbe mosso per interrompere completamente le forniture di gas all'Unione Europea come rappresaglia per le sanzioni dei paesi occidentali. I timori di una recessione nel continente abbondano alimentati dall'elevata inflazione e dall'incertezza dell'approvvigionamento energetico causata appunto dall'invasione da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina. L'Unione Europea che prima della guerra riceveva circa il 40% del suo gas attraverso i gasdotti russi sta tentando di ridurre la sua dipendenza dal petrolio e dal gas russo. Allo stesso tempo la Russia ha ridotto le forniture di gas ad alcuni paesi dell'Unione Europea e ha recentemente ridotto del 60% il flusso del gasdotto Nord Stream verso la Germania. Ora quel pezzo critico dell'infrastruttura di importazione del gas in Europa è stato chiuso per una manutenzione programmata a causa degli ultimi dieci giorni. I funzionali tedeschi però temono che questa sia solo una scusa e che potrebbe non essere più riattivato. La crisi energetica si accompagna anche a un rallentamento economico che ha messo in dubbio se la Banca Centrale Europea possa effettivamente inasprire in maniera adeguata la politica per ridurre l'inflazione. La BCE ha annunciato che aumenterà i tassi di interesse questo mese per la prima volta dal 2011 poiché il tasso di inflazione dell'Eurozona si attesta intorno all'8.6%. L'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è morto in ospedale dopo essere stato colpito a colpi di arma da fuoco durante una campagna politica. Abe è stato colpito due volte appunto da colpi di arma da fuoco mentre stava tenendo un discorso in una strada della città di Nara venerdì mattina di due settimane fa. Attacco brutale che ha fatto perdere una vita. Il contesto era poco prima delle elezioni e ha portato al Giappone una vittoria schiacciante del partito di Abe. Nella tragedia si è conquistata la stabilità politica del Giappone che da anni si basa su alleanze multipartiti che tendono a dare governi poco stabili o in ogni caso dei governi che non hanno molta potenza perché è pieno di compromessi politici. Questo porterà molto probabilmente una governabilità maggiore e la possibilità di applicare politiche più definite e possono dare al Giappone la chance di tornare sul tetto economico del mondo. Non era sicuramente questo il modo per ottenere la stabilità politica e spero che il sacrificio di Shinzo Abe possa portare vantaggi a tutta l'economia giapponese e a tutti i giapponesi. Domenica 17 luglio 2022 le autorità di regolamentazione cinesi hanno esortato le banche a concedere prestiti a progetti immobiliari qualificati e a soddisfare le esigenze di finanziamento degli sviluppatori ove ragionevole nel loro ultimo sforzo per alleviare le preoccupazioni che ci sono ormai da parecchio tempo innescate da un crescente boicottaggio dei pagamenti dei mutui sulle case che sono in computer. Le osservazioni della China Banking and Insurance Regulatory Commissional CBRC sono arrivate dopo che un numero sempre crescente di acquirenti di case in tutta la Cina ha minacciato anzi molti lo stanno già facendo di interrompere il pagamento delle rate dei mutui per i progetti immobiliari in stallo aggravando una crisi immobiliare che ha già colpito l'economia cinese. Gli investitori hanno continuato a scaricare i titoli bancari cinesi azioni e obbligazioni degli sviluppatori anche dopo che giovedì il CBRC ha promesso di rafforzare il suo coordinamento con altri regolatori per garantire la consegna delle case. In un'intervista con China Banking and Insurance ufficiale che è uscita domenica CRBC ha dibattito che sosterrà i governi locali a promuovere la consegna a domicilio e ha spesso fiducia che con sforzi concentrati e concertati tutte le difficoltà e i problemi saranno risolti in maniera corretta. Più in particolare il regolatore ha esortato le banche ad assumersi la responsabilità sociale e a partecipare attivamente allo studio dei piani per colmare il gap di finanziamento in modo che la costruzione di progetti immobiliari in stallo possa essere ripresa rapidamente e le case possono essere consegnate in anticipo agli acquidenti. Ha inoltre esortato le banche a rafforzare la comunicazione con i clienti ipotecari e sostenere l'acquisizione di progetti immobiliari per contribuire a stabilizzare il mercato appunto immobiliare. Inoltre il Watchdog ha affermato che i rischi finanziari della provincia nordolentale di Liaoning sono aumentati di decente ma erano sotto controllo e il governo adotterà misure per prevenire ulteriori rischi per i piccoli istituti di credito cinesi. Celsius Holding ha dichiarato bancarotta negli Stati Uniti d'America rendendo questo exchange, questo prestatore di asset digitali, l'ultima azienda a fallire sulla scia di un crollo del mercato delle criptovalute. Il gruppo ha avviato mercoledì una procedura fallimentare volontaria secondo il chapter 11 famosissimo capitolo 11 per appunto i fallimenti in cerca di protezione mentre cerca di stabilizzare la propria attività e ristrutturarsi. La liquidità disponibile di 167 milioni di euro e questo consente liquidità sufficiente per supportare determinate operazioni durante questo processo, a meno questo quello che ha affermato la società. Questa è la decisione giusta per la nostra comunità e azienda, ha affermato Alex Maschinki, cofondatore e amministratore delegato di Celsius Holding in una dichiarazione. Continua, sono fiducioso che quando guarderemo indietro alla storia di Celsius vedremo questo come un momento decisivo. Celsius che un tempo offriva rendimenti di quasi il 20% sui depositi di criptovalute, ha congelato i prelievi, gli swap e i trasferimenti ai clienti il mese scorso poiché il suo modello di business è stato messo sotto pressione a dura prova a seguito di un calo dei prezzi degli asset digitali. Il crollo di Celsius è stato un duro colpo nel mondo del prestito delle criptovalute che era diventato una parte fondamentale per guadagnare in questo settore. Inoltre la capitalizzazione del mercato delle criptovalute è scesa a meno di 900 miliardi di dollari dai quasi 3 mili di dollari di otto mesi fa, con Bitcoin che ha leggermente raggiunto il suo peggior trimestre in più di un decennio, mentre il settore sta precipitando in un inverno che è un po' difficile da comprendere e capire. Il produttore di aeroplani statunitense Boeing ha ridotto la sua prevista domanda di aeroplani a livello di settore per i prossimi 20 anni, ma ha affermato che si aspetta che le consegne siano stabili, escludendo ovviamente il mercato russo. Le compagnie aerei dei progetti Boeing in tutto il mondo avranno bisogno di 41.170 nuovi aeroplani in vent'anni con la metà delle consegne di aeromobili sostitutivi e con aeromobili che sono a corridoio singolo, che rappresentano circa il 75% degli aerei in circolazione. Le nuove prospettive del mercato di Boeing pubblicate appunto domenica 17 luglio 2022 sono in calo rispetto alla precedente previsione ventennale di 43.610 consegne. La nuova stima esclude il mercato russo e la sua proiezione di 1.540 aerei a causa della guerra in Ucraina e dell'incertezza su quanto e quando i produttori potrebbero vendere nuovamente aerei alle compagnie aerei russe. Boeing ha leggermente aumentato le sue previsioni per la domanda dei prossimi 10 anni a 19.575 consegne di aerei in una proiezione più alta anche escludendo appunto il mercato russo. Questa è una funzione di un ambiente depresso nel 2021, in calo e di nuovo un anno di tendenza nel 2031, che viene aggiunto, ha detto ai giornalisti Darren Holst, vice il presidente del marketing commerciale di Boeing in un briefing prima del rilascio appunto di domenica. Continua, si avvicina molto alle nostre prospettive per il 2019 se fosse inclusa anche la Russia. Boeing ha anche ridotto leggermente il tasso di crescita previsto per il traffico passeggeri a un livello di settore che è circa 3-8% dal 4% stimato precedentemente, ma ha aumentato la previsione di crescita del carico dal 4.1% partendo dal 4% dello scorso anno. Ha ridotto la previsione di crescita della flotta a 2,8% dal 3.1% e la sua previsione di consegne white body in 20 anni è scesa dai 7.670 ai 7.230. Boeing prevede ancora che la flotta aerea globale entro il 2041 quasi raddoppierà perché vede ancora una ripresa della domanda mondiale di aviazione dal covid-19 entro l'inizio del 2024. Bene, eccoci arrivati anche alla fine dell'aggiornamento. Spero che questo nuovo format fatto solo di notizie possa essere di gradimento. Fatemi sapere se preferivate la vecchia versione con i numeri, ma se preferite questa con un numero di notizie più ampio. Però che questo contenuto sia stato sempre apprezzato di gradimento e per favore se così fosse lascia un commento e un bel pollice in su per il grado di YouTube. A te costa veramente un millisecondo, per me significa veramente il mondo. Inoltre se sei nuovo iscriviti al canale e clicca la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun video successivo. Poi se vuoi prenotare con me un accordo di educazione finanziaria trovi come sempre il link qui sotto. Bene, ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!